Amici ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera ragazzi, buonasera, buonasera. Ha parlato, ha parlato Marotta, ha parlato Marotta. Onestamente parlando, onestamente parlando, ho trovato un Marotta in leggera difficoltà. Non per quello che ha detto, che alla fine rasenta la verità, ma su un fatto perché l'ha detto. Non capisco la necessità di andare in sala stampa a una sorta di giustificazione nei confronti dei propri tifosi per la mancanza dell'acquisto soprattutto di Bremer. Perché su Tibala non ci sono dubbi che l'Inter non poteva prendere Tibala con il reparto offensivo che si era loro. Sul fatto di Bremer, secondo me, questa intervista ha certificato una sconfitta. Una sconfitta economica, una sconfitta di strategia, una sconfitta nella maniera più assoluta. Ripeto, quando si compete con una squadra contro una squadra che a livello economico è più forte, è difficile, è difficile vincere. Io lo posso dire da tifosi della Juventus quando noi andiamo ad affrontare economicamente il Paris Saint-Germain, il Manchester City. Non che non potremmo, noi magari non vogliamo. Loro sono più forti per la porta del cielo, se ci sono dubbi. Ma la forbice non è proprio immensa. Però sono più forti indubbiamente, quindi lo scontro è al 90% perso. La stessa cosa è successa con Marotta contro la Juventus per la circostanza Bremer. Ma ripeto, queste cose, io se fossi un dirigente non avrei fatto questa intervista. Perché è come un giustificare la propria sconfitta di fronte alla stampa. Io non l'avrei fatta. Secondo me è un'intervista controproducente. Ecco, il termine giusto è questo, controproducente. Ripeto, non è perché ha detto cose sbagliate. È ripeto perché le ha dette. Lo sapevamo tutti. Tutti lo sapevamo. Ma si è giustificato. Poi magari la trattativa poteva essere forse anche gestita meglio. Perché ripeto, ora lui parla di Screen Air. Screen Air abbiamo ricevuto un'offerta, però è al vaglio. Quindi secondo me, se leggo tra le righe, Screen Air è un giocatore venduto. Però ripeto, perché non l'avete venduto prima? Non lo so. Perché avete spiattellato al mondo che Bremer era ormai nella vostra sacchetta? Era nelle vostre tasche? Perché l'avete spiattellato? Perché avete fatto questa pubblicità sul fatto che avevate proprio il giocatore in tasca? Il discorso è questo. Il discorso è questo. E se tu vai in sala stampa a giustificarti è perché appunto hai sbagliato questa strategia. Tutto lì. Tutto lì. La difficoltà secondo me è questa. L'averlo spiattellato al mondo intero che Bremer ormai era un giocatore dell'Inter. Invece, poi, guaglia guaglia. Naturalmente, quanto poi c'è il cash, come ho sempre detto, chi vende prima, prima acquista. Si è materializzato questo. Tutto là. Ho trovato, ripeto, un Marotta in difficoltà. Ho trovato, anche perché, ripeto, io il Marotta lo conosco, so come agisce, è un professionista, ha grandissime doti. Però, ripeto, qui secondo me la strategia è stata sbagliata ed è sbagliata il fatto che un dirigente si vada a giustificare. Bisogna tacere. Quello che è fatto è fatto. Io non devo giustificarmi niente. Anche perché, ripeto, il tifoso non è stupido. Va bene, ragazzi. La Juventus procede con il suo mercato, diciamo, alla ricerca di un regista. Si fa sempre più insistentemente il nome di Paredes. Vediamo cosa succede. Intanto questa sera, questa mattina, scusate, questa mattina, domani mattina, scusate, alle 5.00 la viene a scendere in campo per il primo approccio. Per il primo approccio. E vediamo. La live è difficile farla alle 5.00. Potrei anche farla perché mia figlia a quell'ora è sempre sveglia. Però vediamo. Vi voglio bene. Ma se ci è incazzato, fino alla fine forse qui. Iscrivetevi al canale.